Vladimir Putin è il Presidente russo che ha fatto una cosa inaccettabile per me, in madre per il grande, mi pare che questo è detto se e questo c'è scritto sul programma comune del centro-destra, mi pare che Berlusconi abbia anche egli spiegato che le parole che aveva espresso erano non l'interpretazione del suo pensiero, ma l'interpretazione del pensiero di altri, non capisco perché continuate a farmi una domanda sulla quale mi pare di essere stata molto chiara e le dico di più, spero che prima o poi chiederete a Enrico Letta conto del fatto che è alleato con un partito che dice che bisogna fermare invio di armi all'Ucraina, perché cerchiamo di capire dove stanno davvero i problemi, centro-destra ha votato sempre compatto sul tema dell'Ucraina, anche sull'ingresso della Finlandia nella Nato, chi non ha votato sull'ingresso della Finlandia nella Nato è stato frato Iami, alleato del PD, i problemi ce li hanno altri.